Una passeggiata di salute. Dopo la Cavese, la regina strapazza anche il Bisceglie. Al granillo finisce 3-0 per gli Amaranto. Darà mai in discussione. Troppo netto il divario fra le due squadre. Il Bisceglie fa soltanto il solletico ad una regina perfetta e che davanti a 9.000 spettatori dà un'altra prova di forza trascinata da un suntuoso bell'uomo. Lo fa giocando a ritmi altissimi e il Bisceglie n'esce frastornato. In attesa del miglior Denis, l'argentino parte dalla panchina, tocca a Corazza aprire le danze al minuto 22. Il raddoppio Amaranto arriva al 39esimo. La firma è di Garufo. Nella ripresa, dopo l'ingresso di Denis, la regina gioca sul velluto e con Bianchi trova anche il gol del 3-0. Nel finale ci si aspetta anche il gol dell'argentino che però non arriva. Arrivano comunque gli applausi convinti di un granillo che sogna già ad occhi aperti. Il Bari è avvertito. La regina non ha intenzione di fermarsi.